Luca è un bambino robusto, è andato al McDonald's e ha mangiato un hamburger, mentre Paolo è rimasto a casa ed ha mangiato la pasta al pomodoro. Si incontrano e decidono di fare una gara. Infine vince Paolo perché ha mangiato cose sane. Luca si chiede cosa è giusto mangiare per vincere una gara e decide di mangiare una sana pasta asciutta. Luca fa palestra. Dopo un po' di giorni fanno un'altra gara ed arrivano pari perché Luca in quei sei giorni ha mangiato cose sane e ha fatto palestra. Si stringono la mano e si salutano. The End Grazie a tutti.